Sono qui per due ragioni, anzi troppe sono. La più importante è il mio amore per la Sicilia e quindi tutti questi festival, poi curati con questo amore, con questo spirito così giovanile, così pieno d'arte, di calore, che è tipico proprio della lava che c'ho dentro, del mio Etna. Vi ringrazio l'organizzazione, mi piace molto, in modo molto proprio artistico per cui sono stata chiamata e che sono stati del regalo, festeggiare e onorare Alberto Sironi con le sue meravigliose regie delle varie puntate del commissario Montalbano e naturalmente anche della mia che è il ladro di Merendini, quindi è la prima, mi ha dato molto nella mia carriera, quindi questa non ha ragione. La seconda ragione è casuale perché l'invito nell'elogoreale è stato soprattutto mirato alla mia partecipazione al Montalbano, però poi casualmente invece sono in un cortometraggio che amo molto, che tengo molto, che si intitola Impunito, girato a Roma, del mio amico regista Mario Spinocchio, protagonista Salvatore Saverio D'Angelo, prodotto da Rossella Izzo e Antonio Chiaramonte, con molti sacrifici, con molti sforzi, pieno di verve, di comicità, di cose sulle righe, ci tengo molto, una commedia, la storia di un gigolò, io faccio una manifestità un po' e spero che questo festival abbia sempre il mondo di successo, perché il calore della gente è una cornice che lo rende una cosa d'arte, come il nostro mare, grazie.